il cazzo di bandit vaffanculo telecamera non è che sapevo che qualcuno di voi due mi passava davanti mentre sparavo che lì c'è prendi sempre in testa apro l'altra infatti nemico rilevato all'estero ma non capisco dove questo sto veramente dronando eccolo lì resta solo un operatore d'attacco a prendete il contenitore di biorischio a casa? dove sono andati? a casa?